Ciao a tutti, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, creatività e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di voi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le previsioni per i primi sei mesi del 2022 per il segno del cancro. Sono previsioni di tipo generale, sono fatti per un collettivo, ricordo sempre che non tutto potrebbe risuonare con voi. Voi prendete i messaggi che vi servono e quelli che no, semplicemente lasciateli andare all'universo. Per avere poi un messaggio più completo vi consiglio inoltre di andare ad ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. La lettura sarà divisa in due parti, ci sarà una prima parte dove vedremo quali sono i movimenti energetici principali di questo periodo preso nella sua totalità e nella seconda parte della lettura invece vedremo un pochettino più nello specifico come andrà mese per mese. Bene. Mostrami. Cancro. Energie generali. Grazie. La papessa. Cancro. Qualcuno qui sta effettuando quello che è una sorta di studio, una sorta di lavoro di tipo spirituale. Per qualcuno potrebbe anche essere che ci si inizi a dedicare a delle materie di tipo esoteriche, per qualcuno potrebbe essere che ci sia uno sviluppo della propria intuizione o semplicemente che si inizi a seguire quello che è la propria intuizione. È una carta molto bella, è una carta femminile, mi parla anche di quello che è per qualcuno, potrebbe essere una sorta di solitudine, ma solitudine non come isolamento, una solitudine nel senso che si sta bene da soli, ecco. È una condizione piacevole di solitudine o per qualcuno potrebbe fare riferimento al diventare, restare o tornare single. Andiamo a vedere che cosa hanno da dirvi i tarocchi di Osho. Ok. Allora cominciamo con divertimento e oltre le illusioni. Dunque, sento che c'è qualcuno… Allora, il divertimento è un fante di bastoni nei tarocchi tradizionali, quindi per qualcuno potrebbe arrivare proprio una persona, ok? Potrebbe essere quello che è una persona di tipo giovanile o una persona proprio giovane come età, ok? O per qualcuno potrebbe semplicemente fare riferimento al movimento di energia che viene, quindi proprio a un inizio di anno magari sono anche ancora un po' i bagordi delle feste natalizie, insomma. Però qualcuno arriva da questo tipo di energia. All'inizio sento che c'è uno sviluppo di questa sorta di energia fresca, frizzante, come vi dico. O qualcuno ritrova il divertimento, il modo di divertirsi in quello che fa quotidianamente. C'è una sorta di andare oltre le illusioni, o meglio diciamo che si è già oltre le illusioni. Sento che questo lavoro in un certo senso è già stato fatto, ecco perché probabilmente c'è questa sorta di divertimento. C'è una sorta di leggerezza, io sento qui, ok? E quindi questo oltre le illusioni per qualcuno mi parla di quello che è un lavoro che è già stato fatto. Probabilmente si è presa consapevolezza di un qualche cosa, qualche tipo di notizia è venuta a galla, si è venuto a sapere o semplicemente è stata una vostra espansione della coscienza che ha fatto sì che si cambiasse punto di vista. C'è un cambio qui di quello che è anche un karma per qualcuno, come se ci fosse diciamo la fine di un certo tipo di karma, ma è anche proprio questo risvegliarsi un po', questo vedere le cose in modo più chiaro. La farfalla comunque è un simbolo di trasformazione, di cambiamento. Mi parla anche di quello che è un cambiamento di tipo fisico, quindi potrebbe essere un cambiamento per qualcuno di casa, però sento che è proprio un cambiamento di tipo interiore, un cambiamento di tipo spirituale. Allora abbiamo poi la carta del coraggio, che è la carta della forza, e sento che comunque eravate, siete e sarete con questo coraggio, insomma, probabilmente state affrontando quello che è, per qualcuno potrebbe essere che c'è stata una separazione, in questo momento si inizia l'hanno come single, come da soli, e quindi adesso si riscopre un pochettino quello che è la leggerezza nell'andare avanti da soli, ok? Per qualcuno questo coraggio invece potrebbe proprio rappresentare il fatto di far sentire la propria voce. La carta della forza comunque, anche se qua si chiama coraggio, mi parla di qualcuno che con dolcezza si afferma, ok? Allora andiamo avanti, vediamo che altri messaggi hanno, grazie. Allora, in viaggio, quindi per qualcuno potrebbe essere che in questo periodo si affronti un viaggio e totalità. Allora, per qualcuno potrebbe proprio essere che c'è questa sorta di viaggio, per qualcun altro potrebbe essere che sia un viaggio di lavoro, piuttosto che di piacere, oppure potrebbe essere che sia necessario un trasferimento, uno spostamento comunque di tipo fisico dalla zona in cui si è o in cui si lavora ad un'altra zona. Potrebbe anche fare riferimento a quello che è un viaggio interiore, e lo vedo molto collegato a quello che è la carta delle illusioni, però ecco, è come se una volta lasciate indietro le illusioni siate pronti per fare questo viaggio interiore di ricerca spirituale, di scavo, no? Ed è proprio, io sento che c'è una sorta di difficoltà a vedere le cose in modo obiettivo, c'è una sorta di impossibilità, nel senso di vedere le cose in modo proprio più ampio, mi viene da dire. È un po' come se fosse anche, cioè, la mente vede quello che succede a cassetti, a compartimenti stagni, ok? Non si riesce ad avere una visione di insieme, una visione globale, quello che sento. Andiamo a vedere che altro hanno i tarotti di Osho da dirvi. Sogno, sei di coppe, quindi. Per cui, quello che sento è che avete comunque questo tipo di sogno, questo tipo di obiettivo, può essere un progetto di lavoro, oppure un sogno di tipo romantico, però è un po' il carburante, diciamo, che avete in questi primi sei mesi dell'anno. Per qualcuno mi potrebbe fare riferimento a una situazione o ad una persona che ritorna comunque dal passato, perché abbiamo due carte che mi rimarcano il passato, ok? Quindi, o magari è solo un momento di nostalgia per quello che si è appena lasciato indietro, insomma. Andiamo avanti, vediamo che cos'altro. Ok, partecipazione, ancora una per piacere, grazie. Grazie. E intensità. Ah no, ce ne sono due. Intensità e mutamento. Wow, quindi si finisce con una ruota della fortuna. Allora, sento che per qualcuno queste tre carte parlano di quello che è una nuova unione che dà una sorta di potenza ad un cambiamento. La partecipazione mi parla di quello che appunto è la partecipazione a livello all'interno di un gruppo. Sento che può essere fortemente una stesa di lavoro, inerente comunque a un qualche tipo di progetto, perché giustamente, come dicevo, mi parla di quello che è la partecipazione, ma in un grosso gruppo, ok? E questo darà intensità al mutamento, cioè lette proprio così. Per cui sento che ci sarà una spinta a quello che è in qualche modo, un qualche tipo di energia che accelererà il mutamento. La ruota della fortuna normalmente parla di energie molto veloci. Anche qui può parlare di karma, come anche qui, ok? Per cui potrebbe esserci che c'è un qualche cosa che per karma, per destino, cambia repentinamente. Normalmente sono cambi di tipo positivo, quelli che portano alla ruota della fortuna, e sono comunque veloci. Abbiamo anche questa intensità. L'intensità rappresenta un cavaliere di bastoni, quindi può essere per qualcuno che ci sia questo tipo di personaggio che arriva. Potrebbe essere una persona di tipo romantico o magari una collaborazione, un'energia comunque passionale, infuocata, veloce anche questa, ok? Belle carte, belle carte perché sento che c'è una sorta di fioritura, una sorta di, come dire, imparare a stare con se stessi e con gli altri. Bene cancro, andiamo a vedere che cosa dicono i tarocchi mese per mese. Quindi andiamo a scandire un po' meglio, diciamo cosa succederà di mese in mese. Vi ricordo che se siete cross-watchers, ossia se siete qui per curiosare un cancro, la lettura potrebbe risuonare come una lettura a specchio, ossia potrebbe risuonare come una lettura per voi. Bene, andiamo a vedere che cosa hanno da dirci questi tarocchi. Intravedo subito un re di pentacoli, quindi partiamo con un gennaio di stabilità, con un gennaio di abbondanza. Abbiamo un dieci di spade al contrario e un matto al contrario. Quindi, come dicevo, c'è un gennaio per qualcuno, potrebbe rappresentare questo dieci di denari un qualche tipo di persona presente all'interno della vostra vita che frequenterete magari un po' più da vicino a gennaio. Potrebbe anche essere l'arrivo di una persona di tipo romantico. Ed è una persona comunque un'energia, comunque di tipo colto. È una persona che ha una certa eleganza. Potrebbe anche essere, per qualcuno, far riferimento a quello che è un dottore, piuttosto che un terapeuta, uno psicologo. Quindi potrebbe essere che qualcuno risuoni in questo senso e che quindi a gennaio si decida di iniziare un qualche tipo di percorso di tipo terapeutico. A febbraio sento che probabilmente questo percorso di tipo terapeutico, comunque questo aiuto da parte di questa persona, di questa energia, aiuta a lasciare indietro quello che è un certo tipo di sofferenza. A marzo abbiamo il matto al contrario, quindi probabilmente siamo ancora in questa fase di lavoro perché non c'è ancora una piena e totale fiducia in quello che è la vita, in quelle occasioni che si possono presentare. Non vedo tutta questa visione positiva, insomma, delle cose. Poi abbiamo un 6 di denari per aprile che mi parla di quello che è il raggiungimento di una sorta di equilibrio, mi parla di quello che è un lavoro sulla vostra generosità, su quanto è giusto dare e quanto, diciamo, invece è meglio a chi dare, a chi non dare e quanto dare di voi stessi. Quindi c'è una sorta di riequilibrio nell'imparare appunto quanto darsi agli altri. Per maggio abbiamo questa regina di bastoni che potrebbe rappresentare la vostra energia e sento che se non fosse la vostra energia è qualcuno che potrebbe arrivare o una persona di tipo con un'energia femminile molto sviluppata che potrebbe portare un aiuto. Ma in questo senso, se foste voi, sento che c'è come dire questo lavoro di riequilibrio ha fatto sì che voi ritrovate un po' quello che è il vostro potere personale. Finiamo poi a giugno con quello che è la giustizia. La giustizia mi parla di quello che può essere una giustizia divina, qualcosa che vi ritorna appunto perché è predestinato. Oppure può parlarmi di quello che è un qualche tipo di bega diciamo burocratica e può essere che non sia... Cioè, beghe burocratiche per me sono tutte beghe quelle della burocrazia. Anche solo firmare un atto notarile per comprare una casa è una cosa bellissima in realtà. È un passo importante, segna un nuovo inizio. Però, diciamo, sono fogli ecco dentro i quali vi troverete. Ho detto la casa per fare un esempio come un altro. Potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Bene, andiamo a vedere perché c'è questo grazie, re di pentacoli. Abbiamo un nove di spada al contrario e un appeso al contrario. C'è qualcuno qui che probabilmente l'aiuto di questa persona aiuta a sbloccare una situazione, aiuta a cambiare punto di vista o prospettiva nel vedere le cose e comincia a dissipare quelli che sono i pensieri e le preoccupazioni. L'appeso normalmente parla di un'energia bloccata, di un'energia in stand-by. In questo caso è girato al rovescio, quindi mi parla di uno sblocco di qualche cosa. Per qualcuno potrebbe parlarmi anche di quello che è la fine di un sacrificio, la fine di una sofferenza, come ci parla il 10 di spade. Si inizia l'anno un po' in modo impegnativo, diciamo, ok? Andiamo a vedere perché c'è questo 10 di spade. Qualcuno è come se non volesse lasciare indietro un'idea, un progetto. Abbiamo un asso di bastoni al contrario e un 3. Sì, qualcuno sento che è un forte attaccamento verso quello che era la situazione precedente e non c'è la volontà di iniziare un qualche cosa di nuovo. Magari non c'è neanche la forza, perché comunque quando c'è un forte dolore ci vuole un attimo, insomma, per elaborare questo dolore, questo lutto. Lutto potrebbe essere la perdita di un lavoro, piuttosto che, non lo so, il fatto che un progetto sia andato male, qualsiasi cosa, ok? Una perdita di per sé. Comunque c'è questo forte dolore e si fa un po' fatica, io sento, a staccarsi. Andiamo a vedere perché c'è il matto al contrario, per piacere, grazie. Abbiamo una regina di pentacoli al contrario e un asso di pentacoli al contrario. Vi faccio notare che c'è un re di pentacoli e una regina di pentacoli, ok? Quindi per qualcuno potrebbe anche essere proprio riferito ad una relazione. È un po' come... Sento che qualcuno qui ha un po' perso la fiducia nei confronti di una persona, ok? È come se non vedeste possibilità di un qualche cosa di concreto. Avete perso la fiducia su quello che è il diventare per qualcuno, se questa fosse una persona, diciamo, che arriva per voi di tipo romantico, in modo romantico, avendo questa regina di pentacoli al contrario qui. È come se... Sento proprio che c'è la parte femminile, diciamo, di questa relazione che non ha più voglia, non ha più fiducia in questo tipo di unione, in questo tipo di relazione, in quello che è la persona, o l'energia comunque che torna e dice, sì, cambiamo, facciamo le cose in modo diverso, riproviamoci, insomma. Può anche riferirsi a una situazione di lavoro, a un progetto, a un collega, eh? Ognuno poi lo applichi alla propria situazione personale. Allora, qui abbiamo, che spiegano il 6 di denari, gennaio, febbraio, marzo, aprile. Abbiamo un 9 di coppa al contrario, un 4 di spade e un 2 di pentacoli. Sì, sento che c'è qualcuno che ha bisogno di cercare un equilibrio. Assolutamente. C'è stata un po' di disillusione. Adesso si è in questa fase di ricarica. si sta comunque cercando di riprendere forza, ok? Ad aprile sento che comunque inizia ad esserci quello spiraglio, se vogliamo. Dove lo spiraglio, nel senso che imparando ad equilibrare quello da dare agli altri e quello da dare a voi, c'è questa sorta di ricarica energetica, di ricaricare le pile. Non siete ancora completamente nel vostro pieno, amici del cancro, però siete sulla buona strada, insomma. Andiamo a vedere. La regina di bastoni è spiegata da un'eremita. Sì, sento che verso maggio ci sarà proprio quello che è una presa di potere vostro. Inizierete, come dire, questo lavoro di capire quanto dare agli altri e quanto dare a voi porterà inevitabilmente a quello che è una maggiore consapevolezza di sé. Vi renderà più forti. Andiamo a vedere che altro per spiegare la regina di bastoni. Per piacere, grazie. Ok. Wow. Gli amanti e il 6 di bastoni. Sì. Qui, cari amici, qualcuno imparerà che cosa vuol dire l'amor proprio. sento molto forte con questa carta degli amanti che ci sarà un restyling della vostra opinione di voi stessi. Sento che per qualcuno davvero ci sarà una presa di potere, davvero sarà un rendersi conto che potete fare tutto quello che volete, che siete voi padroni della vostra vita. Ci sarà questo lavoro di tipo spirituale, una ricerca interiore, un'acquisizione di saggezza e con gli amanti sento che è proprio un lavoro su quello che è l'amor proprio. Imparerete a darvi amore, imparerete a valutarvi e alla fine c'è il 6 di bastoni, il 6 di bastoni è la carta del successo. Quindi alla fine ce la farete e poi chiudiamo in bellezza con una bella giustizia a giugno. Vediamo cosa la giustizia ha un diavolo, ok, vediamo sono uscite tante ma vediamole lo stesso e poi abbiamo un 10 di coppe, un imperatore, un asso di spade al contrario e la forza. Ve l'esposto un attimo così magari si vedono tutte. Allora, la giustizia è spiegata da tutte queste carte e quello che sento è che c'è un qualche tipo di costrizione, un qualche tipo di il diavolo è un'energia di controllo, un'energia di sentirsi bloccato. Parla comunque di vibrazioni di tipo basso, c'è un qualche cosa che comunque è inerente a quello che è un'unione o l'idea di un'unione o la famiglia che comunque crea una sorta di rigidità per certi versi della situazione confusione mentale per altri versi ed è qui che arriva la giustizia. Secondo me è un qualche cosa che arriva proprio per mano divina, per giustizia divina. Avrete, riuscirete con questa forza a trovare un po' il coraggio probabilmente di reagire, di dare una direzione a quello che è la vostra volontà. Sento che c'è sento forte comunque questa sorta di incasellamento di quello che è un'unione. Probabilmente se fosse una stesa di lavoro potrebbe essere che ci sono dei ruoli ben precisi da dover rispettare ma questo così crea un po' di disappunto. Andiamo a vedere l'ultimo messaggio con questi oracoli per il segno del cancro per i primi sei mesi del 2022. Andiamo a vedere un messaggio per gli amici del cancro. paradiso e io sento che ci si avvia il paradiso ok? Questa carta guardate che bella mi parla di felicità di espansione e io vedo questo lavoro di espansione ok? Vedo questa presa di potere io sento che verso maggio giugno sarete proprio in questa vostra potenza di papessa di manifestazione di realizzazione sarete comunque molto in contatto con quello che il vostro intuito espansione divertimento e mi parla di tutto quello che è inerente al giuire l'uno con l'altro nel partecipare alla vita o in quello che è il gioco dell'amore in modo pieno insomma bene cari amici del cancro sono belle carte vi faccio un grosso in bocca al lupo soprattutto per questi inizi un po' questo febbraio un po' così ma comunque vedo che si sbloccano le cose vedo che comunque c'è una andate verso un equilibrio una presa di consapevolezza quindi belle carte sarà un inizio d'anno pieno per voi spero che la lettura in qualche modo abbia potuto così darvi un incoraggiamento se si mettete un like al video iscrivetevi al canale condividete io vi ringrazio tantissimo per essere stati qui con me vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video ciao 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 ciao